Siamo nello stand di Enzo Maioli per parlare un po' di frutta, pere e mele particolari queste? Sì, questa direi è una collezione, una collezione che è cominciata nel lontano 1928 da mio padre Mario, che io tuttora mando avanti e attualmente noi siamo adesso come quantità di piante recuperate, sono 1600 varietà, solo di mele sono 540 varietà che abbiamo in produzione, dunque pensiamo a che biodiversità ci può essere solo nel campo delle mele, le pere sono 270 varietà. Naturalmente perché io sponsorizzo e porto avanti il discorso dei frutti antichi? Perché sono varietà che necessitano di pochissimi trattamenti, trattamenti, cioè mentre una mela moderna, quella che compriamo tutti i giorni al supermercato, abbiamo più o meno 40 trattamenti, noi con 5-6 trattamenti riusciamo ad avere questa frutta qui sul tavolo. Stiamo parlando di biologico? No, non è biologico, questo qui è una lotta più o meno integrata, che noi con la poltiglia bordolesi, il rame e con 4-5 trattamenti riusciamo a avere la frutta, che non sarà perfetta, ma è buona ed è saporita gustosa, sono i sapori di una volta che purtroppo abbiamo perso. E poi mi diceva che lei fa anche del vino particolare? Con le 160 varietà di uve antiche recuperate, siccome ho il campo di madre piante dove io devo fare le viti, allora mi serve i tralci, le viti producono l'uva e io mischio tutto, faccio il 106. Sono 106 varietà dell'Emilia Romagna, che io mischio assieme bianco e nero e ho chiamato il 106, perché sono 106 varietà. È un lambrusco che si beve bene e poi più che altro è fatto con l'uva. Corposo? È fatto con l'uva, perché non sempre il vino è fatto con l'uva, è un vino che faccio per me e per gli amici. Come nasce questa passione? Beh, questa qui è una passione, è una missione che io ho ereditato da mio padre, come dicevo prima, e la mando avanti con tanta passione. Ho tre figlie che lavorano con me e penso che abbiano più passione ancora di me. Questo è il grande orgoglio che posso dire di aver messo in piedi sto lavoro dei frutti antichi e che i figli mi seguono, perché ho tre femmine, però sono bravissime, ma aiutano nella ricerca ancora di questo lavoro. Grazie.